In quanto atleta della Nazionale, testimonia l'Unicef, anche aderisco al progetto Vogliamo Zero Mortalità, in quanto i bambini hanno il diritto di un'infanzia felice e non solo. Quindi ho aderito a questo progetto che è stato istituito Le piccole stelle cantano, che è un'iniziativa molto carina perché oltre ad essere una competizione sana, i bambini vengono comunque messi al centro dell'attenzione da parte di noi adulti. Quindi io spero che questo canto arrivi a tutti i bambini del mondo, perché è importante farlo arrivare anche attraverso noi adulti, ma i bambini stessi. Spero che riusciamo a dar voce a questa opportunità ai bambini del mondo.